Siamo con il professor Gianfranco Lagrassa, già docente di economia politica nelle università di Pisa e Venezia. Come economista dal 1963 si è mosso nell'area sinistra del PCI. Oggi in pensione è un prolifico autore anche sul blog Conflitti e strategie. Salve professor Lagrassa. Buongiorno, buongiorno. Abbiamo alcune domande per lei. La prima. Gli economisti e studiosi Michael Hudson e Alan Parghe hanno descritto l'euro e l'unione europea come un progetto per riportare i popoli europei all'età del feudalesimo. Costanzo Preve parla invece di capitalismo pienamente realizzato. Qual è la sua posizione ed il suo pensiero in proposito? I due autori citati, Hudson e Parghe, a dire la verità, non li ho mai letti, ne ho sentito parlare così. So che si interessano soprattutto dell'area finanziaria in particolare, mi sembra, se ben ricordo, ma non li ho effettivamente letti. Non sono molto sensibile, dico subito ai discorsi sul ritorno al feudalesimo e altre cose del genere che francamente non so neanche che cosa significhi, ma per me il capitalismo è capitalismo e anzi secondo me non esiste neanche il capitalismo, non esistono più capitalismi perché secondo quanto formulato anche negli ultimi anni c'è stato un capitalismo borghese, inglese, quello poi analizzato da Marx, il laboratorio di Marx, a metà ottocento, un capitalismo che è finito probabilmente con la prima guerra mondiale, sicuramente con la seconda era sparito, ma già con la prima guerra mondiale aveva già lasciato il campo a un altro capitalismo più importante, direi, quello che domina tuttora, quello di matrice statunitense. Oggi poi ci sono Cina, Russia, queste formazioni sociali ancora non ben definite a mio avviso. Ritorno al feudalesimo, ripeto, onestamente non mi pronuncio perché non so neanche che cosa possa significare, credo che i due autori comunque siano probabilmente persone preparate nel loro campo, però io non sono mai stato sensibile, l'ho detto molte volte, a tutti questi discorsi sulla finanza, sull'uscita, questa è un'altra domanda, ho visto successiva, messo sul problema dell'uscita dall'Euro, non perché non riconosca che l'Euro è stata una vera catastrofe, un disastro, direi che perfino personalmente oserei dire, ne ho potuto avvertire subito, la riduzione del tenore di vita, se come si può dire. Ma a parte quello, il fatto fondamentale è che finanza e le politiche monetarie le posso anche interpretare come strumenti importanti, molto flessibili, ma strumenti di determinate strategie e per capire queste strategie che sono parte della politica, politica in senso ampio, la politica dello Stato, dei partiti, la politica anche culturale, ideologica, la politica naturalmente di competizione tra imprese, quindi la competizione nel cosiddetto mercato, ma strumentata sempre di politiche e a mio avviso per capire queste strategie politiche che oggi in effetti invece è molto difficile comprendere, bisogna affrontare il problema che oggi viene detto di geopolitiche, continuerei a dire anche di politica internazionale e di studiare bene i rapporti tra i diversi paesi, come si configurano e anche all'interno dei diversi paesi, per esempio degli Stati Uniti, degli ambienti dominanti, perché c'è stato, anche se non è comprensibile fino in fondo, ma c'è stato ad esempio un mutamento di strategia importante tra l'amministrazione precedente Obama, Bush e direi però anche in fondo quella Clinton, sia Bush Senior che il figlio, ma anche Clinton e invece più o meno in corrispondenza anche dell'inizio della crisi del 2008 se vogliamo, c'è stato un cambiamento strategico negli Stati Uniti e a me interessa quasi più capire questo e credo che sia non facile oggi da comprendere, soprattutto in un'epoca che bene o male si avvia il multipolarismo, sempre ancora con un predominio piuttosto cospicuo e netto degli Stati Uniti, ma si avvia il multipolarismo e questo crea tutta una serie di situazioni che ricordano molto quelle del declino inglese di fine ottocento e quindi quello del periodo precedente, la prima guerra mondiale, con cambi di alleanze, mutamenti, accordi, contraccordi, insomma c'è qualcosa di importante e fra l'altro tutto questo secondo me è importante anche per l'Italia, perché l'Italia ormai negli ultimi anni è diventata effettivamente una specie di bailamme, una confusione che sembra quasi creata apposta, io non lo credo invece che sia creata proprio apposta, ma certamente per capire anche quel che avviene in Italia, soprattutto quel che credo avverrà nei prossimi mesi, perché dovranno decidere qualcosa, non possono continuare in questa situazione con questo governo in eterno, quindi nei prossimi mesi, massimo entro un anno, penso che qualcosa dovranno decidere e per capirlo bisognerebbe capire bene anche quello che è lo scontro internazionale in atto. Quindi questa è l'idea. Insisto, per me tutta questa enfasi sulla finanza, sulla moneta, la posso capire, che è importante, ma più che altro dipendo come strumento di strategie e dietro le strategie ci stanno diversi gruppi in conflitto, gruppi che non si possono definire così semplicisticamente, ma che hanno ancora anche un carattere a volte nazionale, sono gli Stati Uniti, la Russia, la Cina, etc., ma non sono solo di carattere nazionale, perché anche all'interno dei diversi paesi ci sono conflitti tra diversi gruppi. Stati Uniti è ancora più insensibile, devo dire, solo al discorso del capitalismo pienamente realizzato, che poi in effetti breve parlava anche nelle ultime telefonate che ci siamo scambiati anche all'ultimo delle telefonate, anche durante la sua malattia, parlava di capitalismo assoluto, una cosa che poi oggi è ripresa da altri, ma che credo si possa scrivere almeno in buona parte a breve, ma non ho mai capito neanche questo, non capisco perché, ripetisco, perché ho detto prima sul capitalismo e sui vari capitalismi anzi che per me esistono, è pienamente realizzato sinceramente, non lo so, voglio dire, perfino se faccio riferimento a un essere umano, un individuo umano che sappiamo oggi, facciamo conto, viva e mediamente 80 anni e io ormai ci sono, come ho detto, quasi arrivato, ma che io possa definirmi, sono sicuro, dico che sono verso la fine, è inutile che stiamo a raccontarcela, ma devo definirmi pienamente realizzato, non lo so onestamente, non ho qualche dubbio. Ora il capitalismo, siccome il capitalismo o i capitalismi insomma, ma questa formazione sociale che in definitiva nella sfera economica si basa su impresa e mercato etc., ha ancora una lunga storia credo davanti a sé, sinceramente parlare di pienamente realizzato onestamente non mi dice niente, ritengo che si debba studiare che cosa, quali strutture ha, come sono mutate, che cosa era il capitalismo borghese che ha avuto, secondo me, una sua buona analisi ed espressione nell'opera di Marx, nel capitale di Marx, non in altre opere, ma che, ripeto, riguarda quel capitalismo insomma non ha nessun senso e da anni che insisto che anche il marxismo va tenuto come un gradino di uno sviluppo scientifico, ma oggi come oggi bisogna ripensare veramente pressoché tutto e lo dovranno fare i giovani, perché io purtroppo tutta la mia vita sono stato dentro quell'orizzonte, sono ampiamente… posso indicare i punti che secondo me sono di crisi, le previsioni sbagliate che sono state a mio avviso fatte, dire quali sono i punti fondamentali su cui si è manifestato l'errore, e questo credo di poterlo dire, ma quanto a riformulare altri ismi e altre teorie credo che siamo molto indietro ancora, però devo rilevare che si è indietro e si continua a restare indietro perché da almeno 40 anni a questa parte non noto quasi nessun pensiero reale di carattere che è veramente teorico sulla formazione sociale, sulla società, ci sono tante cose, così chiacchiere, tante battute come secondo me anche quella del capitalismo pienamente realizzato, ma non noto un'analisi che a mio avviso è un'analisi molto rigorosa e che spero, ripeto, prima o poi qualche giovane inizierà, dico giovane insomma, non di 15 anni, a me magari potrà anche che sia appena nato quello che alla fine, perché se continuiamo con questo andazzo credo che di tempo ce ne vorrà per riuscire a impostare un discorso abbastanza rigoroso su questi temi. Grazie a tutti.